C'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! Ha risolto giallo! Hola, hola, buonas tardi, buenos dias. Nos estamos aquí a Resolvido Amarillo con esta nueva escritora che nos importa en la Madrid del siglo XVIII, yo creo. Pero pregunto alla escritora Hola Sara di Furia, ciao, buongiorno. Hola, ciao. È vero che ci parti a Madrid? Una meravigliosa Madrid. Una meravigliosa Madrid, però il secolo non ero sicurissima di averlo detto giusto. Siamo al XVIII secolo, quindi 1700, sì. Quindi un caldo pazzesco. Un caldo pazzesco, tra l'altro è tutto ambientato in quest'estate, è incredibile. E allora parte la novità di Resolto Giallo e comincia con Sara. Questo è il gadget per le nostre scrittrici. Meraviglioso! Facciamolo vedere in favor di telecamera. E chi non viene non si sventolerà. Allora. Utilissimo tra l'altro. Hello. Manuel Alvera. Cognome che per me è facilissimo da ricordare perché Alvera è il mio panificio preferito di cortina d'ampezzo. Chi è este Manuel Alvera? Manuel Alvera è il mio protagonista ed è il ragazzo che racconta in prima persona tutta la storia che racconta questa estate madrilena. Ed è il mio apprendista. O meglio, è l'apprendista di questo famoso pittore di corte, Goya. E diciamo tutto il suo desiderio, tutta la sua arte verrà messa in grande discussione da alcuni avvenimenti piuttosto macabri. che avverranno nell'arco di questa estate. Allora, a Madrid, città meravigliosa che vi consigliamo vivamente per un weekend, io ho avuto la fortuna di avere delle amiche che mi hanno insegnato che la maniera, come dicono loro, per andare in Movida si chiama proprio macchina da cucire. Perché? Perché loro entrano ed escono, entrano ed escono dai locali. Oggi con te, Sara, facciamo la macchina da cucire, però, fra Sara e il personaggio, la scrittrice e la sua opera. Quindi, torniamo ai nostri giorni e io ti chiedo, come ti è venuta l'idea di questo libro? L'idea di questo libro è nata durante una gita scolastica, perché io insegno in una scuola superiore della mia città, che è Brescia, e quindi siamo stati sei giorni a Madrid. A fare macchine da cucire? Sì, sì. Avete fatto le macchine da cucire, i ragazzi? Sì, 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 sì. E sono entrata nel Museo del Prado e lì sono rimasta affolgorata dalle opere di Goya. C'erano ovviamente esposte le Sette Tele Nere, ma la cosa che ha dato proprio là lo spunto per scrivere un libro su di lui è stato il contrasto tra le sue prime opere, quelle giovanili, quindi molto colorate, molto allegre, e le ultime, che sono appunto tematiche demonia. Cronos che mangia i suoi figli. Esattamente. E lì mi sono chiesta che cosa potesse essere accaduto a quest'uomo per avere un cambiamento artistico così radicale. Ho fatto delle ricerche molto veloci, ma lì al museo, proprio seduta a stante, e ho scoperto che lui, come tanti altri pittori dell'epoca, soffriva di avvelenamento da piombo dovuto appunto all'utilizzo dei colori dell'epoca. Che ha un nome, lei lo dice bene nel romanzo, si chiama Saturnismo. Saturnismo. E però questo, il Saturnismo provoca delle allucinazioni chiaramente, degli sbalzi d'umore, ha degli effetti collaterali chiaramente, però non era sufficiente per me per giustificare un cambiamento così radicale. E allora lì è nata l'idea. Ho detto che cosa faccio capitare al mio goia per farlo cambiare in questo modo. E lì è nata appunto tutta l'idea. Poi, tra l'altro, sono capitata in gita scolastica proprio la settimana prima di Pasqua. E quindi ho potuto vivere, proprio sentire, ho assorbito la religiosità di Madrid, che è veramente... La preparazione della Semana Santa. Eh sì, è veramente qualcosa di particolare, che a raccontarlo non ci si riesce quasi, bisogna proprio viverlo. Sì, confermo, confermo. Anch'io in una delle volte riuscì a scendere proprio in quel periodo e tra cerimonie, teorie, prediche, ma soprattutto c'è tutto il cerimoniale di come loro si abbigliano con questi abiti poi ripresi dal Ku Klux Klan. Ah sì. Che li rendono... Poi ci sono tutti i penitenti. Bellissimo. Sapete perché facevo così prima? Non so se ero in favore di telecamera o se la regista stava inquadrando la nostra Sara, ma questo è il gesto del gioco del Pelele, che è il quadro che quando venni io a Madrid la prima volta, andai al Prado, era quello di Goya che mi era piaciuto più di tutti. L'ho ritrovato nel tuo volume e l'avevo trovato anche in un Pinketz, per cui evidentemente ai giallisti il Pelele piace tantissimo. Ci vuoi fare un accenno a quell'opera lì? Perché c'è un bellissimo momento nella trama del libro dove Sara, attraverso i suoi personaggi, lancia un vero e proprio quesito che potrebbe stare tranquillamente nella settimana enigmistica. Guzzate l'occhio. Dimmi quello che si può dire. No, no, si può dire anche perché l'episodio in questione è piuttosto carino, piuttosto curioso. Non lo racconto quasi mai, però quindi è... Il quadro del Pelele rappresenta queste quattro giovani fanciulle che hanno tra le mani un lenzuolo, ciascuna un lembo di lenzuolo, un lenzuolo tirato, e si divertono a lanciare in aria questo fantoccio a forma di uomo, ovviamente. Fate presente quelli che tengono i Vigili del Fuoco? Buttati, buttati! Ecco, bello tirato, lo lanciano in aria e l'idea di Goya era quella di far vedere come le donne possono prendersi gioco degli uomini. Questa era l'idea di sottofondo. Davvero? Sì, questo era il messaggio che l'artista voleva dare di questo quadro. Non voleva rappresentare un semplice gioco. Lui non è mai stato molto fortunato in amore, quindi... Ah, quindi non era a nostro favore. Sì, e io mi ricordo, mi ricorderò sempre questo momento in cui sono appunto arrivata nel libro a mettere questo quadro e Goya interpella il suo apprendista e gli dice questa è la mia opera, qui c'è un errore, trovamelo, lo metta alla prova. E io sono rimasta ferma due settimane perché io non riuscivo a trovarlo l'errore, però mi piaceva l'idea che l'artista mettesse alla prova il suo apprendista. Ma l'interrogativo da dove ti nasceva? Mi piaceva l'idea. Ma questa donna è un genio, cioè se hai fatto la domanda poi ci hai messo due settimane a darsi la risposta. E non l'ho neanche trovata io la risposta, perché una mattina sono entrata a scuola in classe in una quinta, una quinta favolosa, noi abbiamo le LIM, le lavagne interattive a scuola, quindi ho proiettato il quadro e ho detto ragazzi, qui c'è un errore, trovatemelo. Tempo dieci minuti, me l'hanno trovato e come? Ed è veramente un errore. Ragazzi, qua ci voglio il percentuale dei diritti d'autore. Sì, me lo dicono anche i miei ex studenti. Cioè, qualcuno faccia sapere alla prof che è parte di quelli... Però mi piace coinvolgere i miei studenti in quello che faccio. Loro si sentono poi parte del risultato finale e quindi... Momento macchina da cucire. Mi spiace, usciamo un attimo da Goya. E torniamo, Sara scrittrice. E guardate che cosa ci aveva sfornato prima. Giusto per dire che la nostra non frequenta Biancaneve e Sette Nani. No, decisamente no. Jack, chi è? Jack è la mia personalissima versione della storia di Jack lo squartatore. È un caso ovviamente irrisolto. Tutti lo conosciamo, è stato scritto, è stato prodotto di tutto e di più. E io volevo dare la mia personalissima versione. E infatti in questo romanzo, io dico, secondo me, chi è l'assassino e perché non è mai stato trovato da Scotland Yard? Scusate, io mi lascio un attimo. Arrivederci, io vado a leggere. Perdonate. No, è uno dei grandi misteri, un po' come probabilmente Zodiac, Mostro di Firenze. Ma questo è stato il mio primo thriller storico. Ho detto proviamo, partiamo da qualcosa di conosciuto, quindi qualcosa di semplice. E invece a metà strada mi sono resa conto che quando tu parli di qualcosa di cui è già stato detto praticamente di tutto e di più, trovare una versione che sia originale è difficilissimo. Però insomma sembra che, almeno dalle recensioni, pare che ci sia riuscita. Quindi su questo però non facciamo nessun tipo di anticipazione. Primo perché io non l'ho ancora letto. Sara oggi me l'ha regalato e probabilmente domani mi dovrà un altro flacone di Doposole. Perché dovete sapere, lei lo sa, ma voi non lo sapete ancora. Voi dovete sapere che il Manuel Alvera, qua presente, mi ha preso talmente tanto che domenica io sono stata sul lettino, al lago, tutto il giorno a leggere, così ciapata, come si dice dalle mie parti in Veneto, che mi sono pure dimenticata di rimettermi la crema. E quindi sono a leopardo in questo momento. Quindi l'autrice mi deve un Doposole. E domani me ne dovrà un altro, se non piove. Però questa cosa che io ci metto mesi, mesi, mesi a scrivere e poi i lettori ci mettono un giorno, due, deve finire. Non sa se le piaccia, non sa se le piaccia. Veniamo un po' a te, persona. Allora, ci hai detto che sei un'insegnante, si può dire di quale materia? Certo, assolutamente. Storia dell'arte? No, anche se la insegno comunque nelle mie ore. Non insegno né italiano né storia, anche se lo faccio comunque nelle mie ore, ma io insegno religione cattolica da 22 anni. Beh, allora, ci possiamo aspettare un domani. Faccio di tutto nelle mie ore. Un domani che tu ci fai lo psico-thriller sulla morte di Papa Luciani. Chi lo sa, magari. Quindi. Ce ne sono di misteri. Come nasce il passaggio, se è un passaggio e invece non è stata una gentile convivenza tra la docente e la scrittrice? Ma come ti trasferisci da un ruolo all'altro? Intanto, quando hai cominciato a scrivere? Oh, beh, avevo otto anni. Adesso io non so se qui a Milano non credo che si usi Santa Lucia. Non siamo più da Natale. Esatto. È la festa a Brescia, dove sto io. Il 13 dicembre c'è la festa di Santa Lucia che porta tutti i regali ai bambini. E io avevo otto anni e avevo chiesto a Santa Lucia una macchina da scrivere. Ma non un giocattolo, una vera. T'è arrivata l'Olivetti. Olivetti 35, la lettera 35. Qua c'è Montanelli che dice, sì, gliel'ho mandata io. Esatto. E da lì non mi sono fermata più. Poi dopo le superiori ho fatto due percorsi di laurea e poi insomma ho pensato un po' alla famiglia morale. E' più o meno da 13 anni che mi sono messa in maniera seria a scrivere. Sempre gialli. Sono partita dall'Urban Fantasy. Il primo che ho scritto è stato un Urban Fantasy e tra l'altro vinse... Aiuto. Definizione. Di Urban Fantasy? Eh. L'Urban Fantasy è un ramo del fantasy ovviamente e deve essere ambientato in luoghi reali e avere all'interno solo una pennellata di fantasia. Cioè, in maniera molto semplice, è difficile che uno lega Il Signore degli Anelli e pensi oh, questa storia può essere esistita veramente perché è un fantasy puro. L'Urban Fantasy invece è talmente legato alla realtà e alla storia vera che quel pizzico di fantasia potrebbe anche rientrare comunque in una storia realmente accaduta. E anche oggi abbiamo imparato qualche cosa perché risolto giallo sta diventando anche questo. No, è qualche tempo che stanno succedendo, stiamo facendo succedere questa cosa. dopo un anno, noi andiamo in onda da oltre un anno, di giallisti, noiristi, thrilleristi puri, sto cominciando a approfittare della variegata offerta letteraria che voi italiani ci consentite, per andare un po' a sperimentare anche generi diversi. Però è chiaro che soprattutto ai più non è di immediata comprensibilità, per esempio, quello che tu ci hai citato. Nel caso di specie il tuo Urban Fantasy dove era ambientato? Era ambientato a Venezia nel 1700 e la trama si districava attorno al tema dei sette peccati capitali e quello vinse il primo concorso italiano per Urban Fantasy, arrivò al primo posto, lo mandai un po' così, un po' per gioco, all'inizio è comunque sempre una buona palestra a misurarsi con i concorsi e lo vinsi. Poi è arrivato Brad Pitt e ha detto io ci farei una cosetta. Eh, magari. La chiamerei sempre. Magari, magari. E poi, poi ne ho scritto un altro, sempre Urban Fantasy e poi un giorno ho letto un thriller contemporaneo, scritto talmente male e così brutto, è così brutto, che ho detto no, vabbè, ma io lo posso fare sicuramente meglio e l'ho presa un po' come una sfida e da lì è nato Jack ma io ancora prima di avere risposta di pubblicazione, eccetera, ho detto comunque vada, io mi sono divertita tantissimo, cioè io lì ho capito che il mio essere era nel thriller storico, io sono fatta per il thriller storico e l'ho scoperto scrivendo Jack. Io ho una grandissima stima per voi che prediligete questa nicchia del genere perché comporta per voi un lavoro di approfondimento storico che chi inventa di sana pianta o chi più banalmente ambienta i nostri giorni nella propria città non è costretto a fare. No. So che dovete andare a verificare cibi, abiti, indirizzi perché poi le città cambiano nome alle vie. Esattamente, ma è la parte che più preferisco. Io ho una specializzazione in storia e filosofia, quindi amo la storia, ma quando faccio ricerche per i miei libri scopro sempre qualcosa che non sapevo e questa cosa mi... Ce ne dici una? Ah, quando ho scritto... Per esempio di Venezia, da quel racconto lì. Ah, lì sì, sulle pene capitali. Mi sono fatta una cultura sulle pene capitali dell'epoca e sulla figura del boia, ad esempio. Da goia a boia è un attimo? È un attimo. Dici, dici, dici. No, ad esempio mi aveva incuriosito molto come il ruolo a livello sociale che il boia aveva a Venezia nel 1700. Credo fosse molto stimato. Mentre a Napoli, ad esempio, era comunque relegato, veniva allontanato, diciamo, dal resto della società, non era ben visto, eccetera, anche se comunque lavorava per il re. Era un dipendente pubblico. Esatto. Invece a Venezia era letteralmente molto rispettato ed era una figura importante. Quindi anche queste chicche. Poi, per quanto riguarda l'apprendista di goia, invece, ci ho messo nove mesi per studiarmi tutta la tecnica pittorica dell'epoca, ma soprattutto per studiarmi la miscelazione dei colori, perché il mio apprendista non nasce pittore, ma nasce come miscelatore, preparatore di colori per i pittori. Fatevi dire come si fa il rosdore. Fatevelo dire perché vi torna in mente a Puleio, immediatamente. Eh sì, perché il rosdore, che era un colore che veniva utilizzato per le gote delle fanciulle nei dipinti, cambiava sfumature di rose, quindi di rosa, in base all'acidità dell'urina della vacca che era stata utilizzata appunto per realizzare il pigmento. Quindi bisognava stare molto attenti perché altrimenti il prodotto finale ne avrebbe risentito. Ed era il colore più difficile da preparare in assoluto. Tant'è che goia sceglie Emanuele proprio perché gli prepara un ottimo, un perfetto rosdore. Ma poi ci sono altri colori che mi hanno estremamente interessato. Chissà perché l'avevo anche avvicinate quelle pagine alla cosmesi moderna. Per esempio il nero di vite. Ah sì, il nero di vite anche. Sì, si prendono i tralci della vite. Devono essere quasi affumicati sul carbone. Poi vanno tritati, mescolati con l'olio di papavero. È tutto un procedimento molto complesso e molto delicato. Che risente anche della temperatura esterna. Infatti questa estate molto calda e molto maledetta di Madrid, in cui si svolge tutta la vicenda, a volte mette anche a rischio i pigmenti. Però non volevo che questo libro fosse un manuale di tecnica pittorica. Quello che c'è nel libro è più o meno un centesimo di quello che ho imparato. Quaderni, quaderni, quaderni di appunti, schemi, cose varie. Me ne sono serviti, mi è servito pochissimo di quello che ho imparato, ma era importante. È una parte importante. Guardate cosa fa uno scrittore. Immaginatevi quanti ne è ammazzati per scrivere Jack. Cioè immaginate il lavoro di preparazione di Sara. Incredibile. Ho studiato tutte le scene del delitto. Perché ci sono le fotografie in bianco e nero scattate da Scotland Yard e quindi studiate nei minimi dettagli. Tornando a Goya, mostra pure in telecamera a tu stessa questa grande soddisfazione che ti sei presa. Voilà. Ucenicul. Non saprei dirvi come si pronuncia. Ucenicul. Lui, Goya. Che sarebbe a dire? È la traduzione in rumeno dell'apprendista di Goya. Perché questo testo, un anno e mezzo fa, è stato acquistato da una casa editrice rumena, tradotto, e da ottobre dell'anno scorso è in vendita sul mercato rumeno. Quindi il mio apprendista ha passato i confini italiani. Hanno anche cambiato la copertina. Sì, avrebbero potuto tenere la stessa, ma hanno scelto di fare una copertina loro che magari a noi risulta un po' strana o forse poco chiara, ma è molto corrispondente ai gusti della Romania. Perché anche questo va valutato. No, beh, scherzi a parte. Francamente a me non dispiace. I colori più o meno. I colori sono quelli. Sì, più o meno. Non l'hanno completamente stravolta. Sì, sono cugini primi questi due. Comunque, allora, per le vostre serate estive, se volete anche voi per le vostre giornate, mi raccomando, la crema, non fate come me, Goya e Jack assieme a Sara. Ci salutiamo con questo commiato. Che cosa ti aspetti dal futuro? Se hai progetti? Se li vuoi condividere con noi soprattutto. Sì, c'è un inedito finito che è in valutazione presso alcune case editrici e siamo in attesa. Siamo in attesa. I tempi dell'editoria sono biblici, per non dire giurassici, e quindi ci vuole tanta, tanta, tanta pazienza e nel frattempo si continua a lavorare su qualcosa di nuovo. E quindi, noi che cosa ti possiamo augurare, se non uccini cool? Bene, da Risolto Giallo è tutto. Dalla vostra Alessia Sorgato, a presto. Arrivederci. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo!